Eccoci e bentornati sul mio canale! Dopo un primo video sulla prima missione quasi tutorial di Worms Battleground possiamo continuare ovviamente la campagna ci possiamo fare qualche altra bella missioncina insieme allora torniamo in campagna, dobbiamo riaprire la mappa andiamo nella prossima missione Vermi non più puzzolenti, il pozzo degli Agbab Urianti mi devi scusare, questa esposizione mi ricorda la gente del bacino dell'Ungulu maledetta da un maleficio amuleto di pietra mi sono tuffata nel pozzo e li ho salvati afferrando quell'amuleto e nuclearizzando l'intero pozzo andiamo, vediamo un po' che cosa ci aspetta ma soprattutto qual è il nemico che dobbiamo sconfiggere per superare ovviamente questo livello dovremo ovviamente vedercela con tanti altri Vermi assedati di armi e di vendetta e vediamo un po' allora dobbiamo uccidere come sempre tutti quanti vediamo un po' che cosa troviamo qui il bazooka, molto bene, ricorda premi B per aprire il pannello armi e qua c'è Ok allora, siamo pronti, cominciamo subito a spararci i primi nemici bomba vediamo un po', vediamo un po', sono morti vedo, sì, tutti e due va ok, prima uno e poi l'altro già i due mangia roccia, ci salutano ciao belli, ciao belli ok vediamo un po' che mission... oh, colpo gobbo ci ha tolto 30 energie Ok, ma adesso ce la pagherà molto ma molto cara il maledetto Ok Ok beccate questo eh, te è piaciuto va 45 gli abbiamo levato, a posto perfetto i primi 3 l'abbiamo fatto, ok Allora, ora non so se passare per quel passaggio segreto che ci sta dicendo la voce narrante oppure no ora vediamo un attimo, vediamo quella che ci risulta più comoda andiamo intanto al checkpoint per stare tranquilli pure qua non ci possono far niente perché come fanno a colpirci vediamo un po' se... e, 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 ya, fa qualche cosa, eh che fai? ah, salta la corda, così salta la corda va, vabbè allora, andiamo, andiamo vediamo qua che ci troviamo granatine, sto cacchio granatine, allora approfittiamole subito delle granatine e... facciamo così bello no, no, vai giù, vai giù, vai giù bene, a posto e questo ci saluta ciao bello un altro sventrato dei mangiaroccia ok meno 85 addirittura ok, passata a miglior vita va perfetto vediamo un po' ora che fa questo qui sopra a noi questo è un po' difficile da prenderlo eh, l'unica è passata sotto dando sta full ton vediamo un po' che fa Tawa? Tawa, Tawa dai, ammazzate da solo no, no, cacchio l'ha presa bene l'ha presa... ah no, non ci ha colpito ah, pensavo ci avesse tolto l'energia pensavo di sì ok, andiamo sopra, va? andiamo a prendere Tawa maledetto Tawa ce la faccio ad arrivare su, su su, su no, non ce la faremo mai arrivare là, vero? mi sembra di no, regà no, non si arrampica allora dato che questo lo vedo abbastanza difficilotto da prendere ci andiamo a fare questo qui che ho visto prima che è Kiga Kiga eeeh direi di lanciare una granatina piano piano ok, perfetto andiamo via così morto e anche questo se ne va ciao bello un altro mangiaroccia di meno ora vediamo un po' Tawa cosa fa io vorrebbe che si ammazzasse da solo non sarebbe male vai così, sì, così, sì no, l'ha presa bene sto cacchio guardalo sto cavolo ci ha tolto tre però e io saprei come faccio a mandargli una granata là sopra, regà allora proviamo a fare una cosa mi sta bene in mente un piano diabolico aspetta va prima devo passare qua e poi devo e dai oh perché non ci vai qua aspetta 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 ok benissimo mi faccio credere che sto qui e se sto aspetta però di qua vai 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 no e perché non ce la fai bello di casa perfetto mi faccio credere che sto qua e vediamo che riusciamo a fare allora vediamo se ah questo tipo è chiuso ah è chiuso e pensavo tipo che pensavo di no o tipo oh sì aspetta eh proviamo un po' tanto ci abbiamo ancora a 10 secondi però arrampicarsi non si arrampica non ce la fa ad arrivare qua vedi è troppo liscia allora aspettiamo un po' la missione vediamo un po' se lui pensa che noi stiamo qui ce lancia la granata e si auto ammazza se no devo pensare un modo per per lanciargli una granata lì dentro che non mi sembra molto molto facile vediamo un po' che cosa pensa vediamo un po' eh ah no salta la corda quindi lascia la l'azione a noi quindi andiamo noi e vediamo un po' di lanciare la granata non sarà facile riuscirla a mandare lì dentro vediamo un po' che riusciamo a fare allora vediamo un po' eh così non è facile come cacchio possiamo fare perché non allora aspetta aspetta eh così così aspetta e no devi andare un po' più di qua sposta un po' sta sta visuale oh se la lancio così in cattiveria ti diceva proviamo un po' vai si andata vai bello bello ciao Tawa e anche Tawa ci ha salutato bella azione no cacchio però mi è esploso vicino ok si è aperto un altro punto da andare a fare oh c'è sa pure la salute e il prossimo checkpoint allora andiamo bella azione Chirly mi sei piaciuto bella azione bella azione andiamo va vieni da questa parte arrivo subito in saltello perché sa molto contento così no no andiamo devo regolare la salute e poi dobbiamo andare al checkpoint oh 50 di salute e checkpoint vediamo un po' che accade ecco quello che ci ha fatto vedere ad inizio missione conta oh spara subito conta oh colpa gladstone colpo gobbo ragazzi colpo gobbo ma adesso ti venga a sventrare con il bazzucchino che c'è ah due araka e urik ma che non mi so allora andiamoci a fare subito questi due va vai peccatevi la granatina bam no uruk non è morto cacchio quattro e là c'è sta il magnete il magnete il magnete uruk salta la corda si vabbè sta un po' appesantito quindi si c'ha ragione da saltare la corda vai granatina va no no un po' di là un po' di là bam niente si è morto va meno male meno sette ok è due quindi manca yuma e quello là sopra se non si apre qualche altra oh questo spara sto cacchio perché questo c'ha doppia doppia azione doppio colpo sto cacchio di yuma allora andiamo sopra da conta e prendiamo il bazzucchino il bazzucchino così e ti arriva una tramba non te la scordi più bam ok ciao bello morto va rimane solamente quella a destra rimane solo yuma oh che cacchio però guarda come spara maledetto ora vorrei sapere se il bazzuca lo possiamo uccidere o ci torna indietro perché c'è stal magnete ci vogliamo provare tanto c'ho ancora abbastanza energie proviamo così vai così bam morto si a posto morto ciao bello finiti vediamo un po' che è rimasto ancora bello l'abbiamo completata contro i mangia roccia missione completata molto bene ragazzi siamo andati da paura perfetto allora facciamo una cosa spero che il video sia stato di vostro gradimento e se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale mettete un bel mi piace sulla mia pagina di facebook e seguitemi su twitter e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale Tara Pinkle